Ritirarsi in 30 giorni, questo l'ordine che ha dato il presidente americano Donald Trump alle truppe americane presenti in Siria. Il solo motivo per cui eravamo lì era a combattere l'ISIL, ha spiegato Trump, ora non abbiamo più ragioni di restarci, abbiamo sconfitto lo Stato Islamico. Alla decisione però si oppone il Pentagono che cerca in ogni modo di dissuadere il presidente. La lotta all'ISIL non è finita, anche se la coalizione ha liberato alcuni territori, ha spiegato la portavoce del Dipartimento Difesa, dicendo che gli USA hanno iniziato il processo di rientro delle truppe ma si avviano alla prossima fase della campagna, è scritto in un comunicato. La lotta all'ISIL quindi per Trump è terminata, ma per il Pentagono no.